Ormai ci siamo a Dardesio dopo Pasqua, è pronta a partire una serie di lavori pubblici, annunciati, attesi, definiamo un po' il programma a partire da martedì. Sì, tanti cittadini hanno notato in questi giorni la posizione ai cartelli che segnalano di fare attenzione per l'avvio di alcuni cantieri. Naturalmente partiamo con il cantiere più importante, non in termini di entità economica, ma perché è il viadotto 25 aprile, lo snodo viabilistico fondamentale per bypassare il centro storico. Martedì 3, chiaramente tempo permettendo, si apre finalmente questo cantiere, ci sarà l'allestimento delle impalcature per effettuare i lavori, poi la vera e propria chiusura del ponte e del viadotto arriverà il lunedì 9. Però da questa settimana, dal 3 di aprile, dopo Pasqua, partirà il primo cantiere che è la riqualificazione del viadotto 25 aprile, che è stato appaltato tra le prime opere lo scorso anno e che sarebbe dovuto partire già a settembre, ma per una serie di intoppi burocratici. L'inizio è stato fatto slittare più avanti, chiaramente non potevamo chiudere in tempo invernale, con i problemi anche della neve e quant'altro, quindi si è scelto di partire dopo Pasqua. È il cantiere più impegnativo, come dicevo, perché dal punto di vista viabilistico avrà delle ricadute, però è anche il cantiere più delicato, perché si tratta di riqualificare spalle impalcato di un viadotto costruito nei primi anni 80 e che, dalle diverse fotografie che abbiamo presentato anche nelle assemblee pubbliche lo scorso anno, risulta davvero molto ammalorato. Il cantiere durerà due mesi e quindi fino ai primi di giugno ci sarà la totale chiusura del viadotto e quindi il paese si attraverserà come oggi in senso unico da Via Locatelli verso il Ponterino e per tornare verso Via Locatelli bisognerà fare il giro completo dal Ponte delle Seghe. I cittadini dovranno pazientare questi due mesi, chiedo già la pazienza e chiedo uno sforzo ai cittadini, però non potevamo più rimandare questo lavoro. Contemporaneamente, dicevamo, partono altri quattro cantieri. Sempre per il capoluogo ci sarà la riqualificazione del campo di mineralizzazione del cimitero del capoluogo, un intervento molto importante perché questa sistemazione del campo di mineralizzazione ci permetterà di effettuare il programma predisposto per l'estumulazione per liberare posti nei loculi e nelle tombe e quindi per il prossimo anno ci consentirà di continuare la riqualificazione che noi vorremmo mettere in campo del cimitero comunale del capoluogo e gli altri tre cantieri invece sono, anche questi in contemporanea, i due importantissimi del laghetto Ivalcanale, la riqualificazione proprio del parco, ovvero proprio del laghetto con la costruzione della struttura commerciale e il parcheggio. L'area e sulla saranno regolamentate da dei parcometri per cui la sosta diventerà pagamento escludendo chiaramente i residenti del comune perché è giusto che le comodità debbano essere pagate. E sempre la settimana prossima si aprirà anche il cantiere, ribadisco tempo permettendo, della riqualificazione della strada grossico-pastorale con il collegamento tra Piazzolo e la contrada A.